Bentornati, bentornati sul canale giorno dopo il successo roboante dell'Inter in quella di Monza e l'Inter dunque continua, continua nella sua voglia, nella sua corsa, nel suo regolamento personale di conti con tutte le squadre che l'anno scorso avevano tolto dei punti sanguinosi all'Inter l'ha ricordato pure Inzaghi prima e dopo la partita e l'Inter quest'anno tra Juve alla quale già l'anno scorso due sconfitte su due e quest'anno è andato a pareggiare fuori casa, tra la Fiorentina in casa, il Monza già andato in ritorno eccetera, il Napoli a Napoli, la stessa Lazio all'Olimpico sta regolando un sacco di conti, devo dire, sta regolando un sacco di conti nel frattempo è in campo la Lazio proprio, prossima avversa dell'Inter in Supercoppa al momento 0-0 con il Lecce che però si sta facendo preferire ma torniamo all'Inter e affrontiamo un tema della comunicazione in generale in particolare affrontiamo il tema del post partita allora già ieri io l'ho seguita su Sky la partita e a fine primo tempo l'Inter, come ho scritto l'8-0 sarebbe stato stretto e non esagero e a fine primo tempo si va in studio con Bonan l'Inter parte forte poi però rischia e il gol che avrebbe riaperto la partita di Pessina mi ha annullato solo per pochi centimetri per l'offside rischia rischia vabbè poi mi hanno segnalato invece e poi in realtà poi il post partita su Sky è stato in linea con con i commenti generali invece mi avevano segnalato un post partita un po' sui generis su DAZN mica tanto sui generis a vedere insomma i protagonisti e allora sono andato poi a recuperarlo e in effetti mi sono fatto grasse grosse risate attenzione intanto a Lecce si perde un bicchier d'acqua sono fatto grasse grosse risate e alcuni alcuni hanno suggerito il titolo tutti scarsi dal divano a me è fatto più ride piace più tanta spocchia dal divano perché si assiste sempre più a questi commenti transcianti ex calciatori che pur di evidentemente farsi ricordare in qualche modo a livello di dichiarazioni poi non avrebbero non ne avrebbero neanche bisogno perché magari non sono stati palloni d'oro ma hanno fatto onestissime onestissime carriere e però si esibiscono in questi spericolati giudizi che che perché poi il limite tra il pensiero soggettivo che è legittimo e poi qualcosa che va a cozzare con la realtà che tutti vediamo insomma il limite è veramente è veramente sottile ad esempio ad esempio sì poi parliamo pure della Moviola di di Dazon con Marelli che diciamo lui è l'esperto tra virgolette di Moviola ha lasciato il tempo che trova per certe cose stavo d'accordo nell'anima generale nel particolare no ma mi sono insegnato alcune alcune frasi ad esempio Montolivo l'Oscar al miglior tecnico per il giorno d'andata lo do ad Allegri c'è una squadra che ha fatto che ha fatto il il vuoto in ogni tipo di classifica l'Oscar va a Allegri va beh e quando proprio si dice andare andare oltre il il risultato no perché spesso le prestazioni della Juventus sono accompagnate di fatto solo dal risultato e quelli dell'Inter di Inzaghi no ma vabbè vabbè poi sempre sempre Montolivo ha fatto una faccia vedete quello che vi dico poi c'è c'è anche il modo c'è anche il modo di dire ormai sta diventando avan spettacolo sta diventando veramente troppo talk poco solo show ha fatto una faccia quando in studio si parlava di Lautaro Thuram come miglior coppia attuale del campionato e Montolivo ha fatto una faccia schifata no Kvaratskelia e Osimène tutta la vita Kvaratskelia superiore a Thuram Osimène superiore a Lautaro superiore poi chiaramente senza dare così a pelle senza dare poi un vero e proprio giudizio di merito non ricordo chi diceva è Lautaro però deve ancora crescere Osimène ha vinto il campionato l'anno scorso Lautaro pure l'ha vinto anni fa e e non ha vinto solo il campionato Lautaro se è per questo è arrivato in fine di Champions League è arrivato in finale d'Europa League ha vinto un mondiale ha vinto una Coppa America mondiale non da protagonista Coppa America da stra-protagonista qualificazioni al mondiale da stra-protagonista poi sappiamo quello che è successo alla Caviglia con tutto il bene l'eccezione tra i due è quella del nigeriano poi mi sono insegnato parolo che ha detto l'Inter senza Lautaro fatica eh vabbè certo mi sembra anche nel frattempo ti accendo una rissa tra Lazio tra Lazio e Lecce con Zaccagni il solito protagonista vabbè lo conosciamo insomma animo fumantino sempre si butta protesta il giuratore non mi piace da quel punto di vista non mi piace per niente dicevo la loro fatica eh però Lautaro si lo sappiamo sono sono calciatori ehm decisivi nel bene quando giocano nel male quando mancano ma un po' un po' un po' ovunque direi sì poi un altro un altro dei teori a tutti i somari dal divano ma non mi piace più tanta spocchia dal divano e insomma tutta una serie di di commenti da parte di di questi astanti tra i quali pure quello sulla sulla Moiola ad esempio mi ha fatto mi ha fatto sorridere quello di quello di Berami sulla sul caso da Moiola appunto di di Lecce ma c'è eh saluto di Rick non so se si sente ma vi saluta ma ragazzi una scamba alla nostra la cia fa di quale segno ma non si sente perché dall'allontano non si sente mi sa che non si sente non si sente niente si lamentava per per il fallo per per di ieri comunque dicevo invece su Berami eh ha fatto sorridere perché sul rigore dato all'Inter peraltro praticamente inutile eh sì ma frattesi dove 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 stava correndo dove stava correndo si è creata pure questa questa farsa del dell'accumulare il rigore su Dani Mota che si butta in maniera indecorosa e quello su frattesi frattesi prende posizione e davanti viene sbilanciato e riceve pure una ginocchiata infatti il mobilista di Dazon si è concentrato solo sul contatto alto ma c'è pure una ginocchiata sulla coscia di frattesi io dico ma sei lì per quello non dovresti avere altre e ulteriori distrazioni e si è fatta tutta sta narrazione anche oggi leggendo i giornali tre rigori che si possono dare il primo è netto è in qualunque galassia o in qualunque sistema metrico decimale con qualunque regolamento conno senza varia e quello è il rigore pure nel da sempre nel calcio non è questione è una parata di Cagliardini quello su Dani Mota ne abbiamo parlato fa abbastanza sorridere per come lui si butta peraltro Darmian tocca il pallone chiaramente quello non basta no? non basta toccare il pallone tocca il pallone tra le gambe di di Dani Mota poi sfiora sfiora la parte la parte posteriore della dello stinco sopra sopra la tra il polpaccio e la caviglia Dani Mota resta tranquillamente in piedi e poi si 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 inerpica su qualcosa di invisibile cadendo come colpito se a voi piace farvi prendere per il culo va bene continuate così accettiamo questo calcio io non lo accetto a voi piace così a voi piace il calcio del tocco c'è va benissimo il tocco c'è rigore magari era pure espulsione Darmian chiaramente nessuno aveva visto ieri durante la Moviola perché mica sono del mestiere che Darmian tocca pure il pallone va bene su frattesi io veramente fatico cioè come fai a comunare queste due robe uno è un tamponamento gli frano addosso rigore tutta la vita e se c'è stata la discussione pure su sta roba qua quindi torno a dire tanta spocchia dal divano credo sia il titolo più azzeccato perché veramente vediamo delle sparate che e torna la mia domanda ma vale la pena a riempire totalmente i salotti post partita con ex giocatori cioè dove è finita la figura indipendente del giornalista che fa opinione va bene uno due ma ormai hanno hanno soppiantato totalmente i giornalisti voi direte perché giornalisti serie evidentemente ce ne sono pochi sarà pure così però non è che la ricetta alternativa sia migliore un saluto non è che la ricetta è un saluto che la ricetta è un saluto